amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish domenica mattina siamo qui in sponda est con gli amici di palma con gli amici di palma che ci stanno bucando tutti i bassi no ragazzi adesso vi dovete fermare dovete andate a mangiare per favore guardate che bei bassettoni guardalo guarda che li vane ha guarda che belli che sono complimenti ragazzi come sta andando la cosa ma direi che mangiano mangiano allora qui lui ha fatto una roba li ha impiccato mulinello fatto di tutto però insomma la giornata è cominciata un po lenta è perché dovevate capire un attimo come funzionava però insomma mi sembra mi sembra che l'abbiate capito abbastanza bene direi speriamo poi la giornata è lunga la situazione può solo migliorare adesso viene andato a mangiare quando tornate boom e ricomincia il bombardamento bene ragazzi allora anche oggi qui è il solito guarda 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 cazzo non sulle libellule anche sulle ribellule quando è molto caldo cazzo non sulle ribellule facciate vedere tenga super bene bene complimenti complimenti anche da palma fammi la fottina che poi lo molla subito ciao vai quinta bassa grazie è un bombardamento è un bombardamento facciate vedere le rilascia rilascia che l'acqua è bella e si vede bene ecco qua complimenti ragazzi ottimo ecco qua